Arriva il marketing on demand per le piccole e medie aziende che, strette tra la crisi provocata dalla pandemia e dall'impennata dei prezzi a causa della guerra in Ucraina, sono sempre più alla ricerca di soluzioni flessibili che consentano loro di abbattere i costi fissi attraverso l'esternalizzazione del servizio e permettendo così loro di stare al passo con i cambiamenti posti dal mercato. Questo è l'obiettivo di WeArMod, una start-up che in un anno e mezzo di vita offre i suoi servizi a oltre 25 aziende, come spiega il suo fondatore e amministratore delegato Mario Valerio Nocensi. WeArMod è specializzata nel marketing on demand. Marketing on demand significa offrire una soluzione flessibile alle piccole e medie imprese, che è quella di esternalizzare un dipartimento marketing intero. Quindi per tutte quelle aziende che non possono, non hanno nei piani di allargare o di ulteriormente alimentare il loro dipartimento marketing, noi offriamo una soluzione per garantire il servizio in una maniera flessibile e misurata. La peculiarità di WeArMod è quella di offrire sia il servizio di strategia, cioè cosa fare, sia il piano di implementazione, ovvero il come farlo. Altro punto di forza è la trasversalità, come prosegue Nocensi. Ci caratterizziamo per essere trasversali in termini di clienti. Noi infatti lavoriamo sia nel mondo B2B che nel mondo B2C e in settori diversi. Mi viene in mente l'hospitality, il wine, il retail, il food, ma anche business molto più particolari B2B come la nobilitazione su carta, come lo zucchero estratto dall'uva, quindi lo zucchero naturale. Questo ci permette di assistere veramente il nostro cliente andando ad offrire un pacchetto completo, avere un unico interlocutore e quindi lasciare all'imprenditore lo spazio per dedicarsi al suo core business che è la cosa che conosce meglio e che sa fare meglio. Insomma, modello adatto ai tempi con obiettivi a breve termine misurabili e reali.